ce l'abbiamo fatta funziona aggiungi un ospite no non voglio aggiungere un ospite cosa ho fatto no da mezz'ora stiamo cercando di iniziare la diretta io sono in pigiama perché qua sono le 8 del mattino io sono Federico lui è Federico io sono Chiara il film durava tre ore è bellissimo gli piacera tanto poi tutti lo chiamano Leo però io ho vinto vabbè vi faccio sentire italiana raga aspetta è dal computer aspettate dov'è il mio computer? ah in bagno intanto ci sono io in pigiama mentre Fede sta andando a prendere il computer che ha lasciato in bagno non lo so e esce il ritornello stiamo uscendo il ritornello comunque forse l'avete già sentito perché la pubblicità della del cornetto dell'algida e penso sia già in televisione in italia cosa hai detto? che fra poco è già una pubblicità in italia il cornetto è una pubblicità la stanno già usando come sincro per la pubblicità del cornetto cosa devo dire come sincro come sei discografica wow sta per uscire il mio disco il mio cecchetto è in the building come la faccio sentire non posso alzare troppo perché sennò sveglio Leo non è vero si sveglia anche se allora sono in pigiama e truccata perché non volevo cioè mi sono un minimo messa la crema ma non è vero chiara si sveglia così alla macchina e sono truccata però non sono ancora pettinata mi devo vestire oh 33 mila è record 34 si sono dei canali in girata più popolari si del mondo no non lo so forse si oh raga c'è lady gaga è entrata lady gaga allora mi faccio sentire italiana siete pronti eccola faccio sentire solo un pezzettino ditemi se vi piace ma devo fare anche il playback si canta un po' si è scontato all'offerto devi ballare almeno mi fiumando l'origeno sarà l'allergia che ha giocato all'anticipo questi occhi rossi non ti ho distaminico e poi ma l'altra si allena con il rischio se non è il pentagono lo trovi al poligono e tu non sei dispaventata come minimo come quando posso benzitichere il curriculum ferrero già la bandiera gli azzurri sono il ritiro a formentera no trattano una spigamera è solo un'altra storia italiana stampare chiamato halli chiamato 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 Grazie a tutti.